Passione, lavoro e impegno, tantissimi figuranti. Tra gli eventi più attesi della settimana santa ammistretta c'è sicuramente la via crucis vivente dell'aspe Nuova Speranza. Dal santuario della Madonna dei Miracoli con il Sinedrio, l'ultima cena, fino ai momenti più toccanti, l'orto degli olivi, l'incontro di Gesù con l'angelo, il Calvario. La via crucis vivente di Mistretta è un itinerario di fede in cui fa da cornice la bellezza del centro storico. Alla fine nel cuore degli spettatori c'è la gioia della resurrezione e la speranza. Ci siamo preparati due mesetti, così un mese e mezzo che proviamo quasi tutte le sere con una disponibilità da parte dei ragazzi. Però devo dire che rispetto a tutte le altre manifestazioni o comunque rappresentazioni che noi facciamo durante l'anno, questa ci tocca principalmente perché non è una semplice rappresentazione o comunque portare in scena un copione scritto. Questa è la rappresentazione della vita di Gesù che noi in un modo o nell'altro sentiamo nostra, facciamo nostra e speriamo di far arrivare a tutti nel miglior modo possibile. È per noi un momento sì di recitazione teatrale ma è anche un momento di preghiera. Ogni qualvolta ci riuniamo per provare, siamo sicuri che anche se c'è il momento di diletto, di svago, di diversivo, ecco in un periodo diciamo un po' più apatico dei piccoli paesi, stiamo certamente anche pregando. C'è tanto di ognuno di noi e c'è tanto di questa comunità che vuole ancora mantenere salde le proprie tradizioni. Chiediamo ecco questo di apprezzare e di avvicinarsi a queste realtà, alla realtà parrocchiale, alla realtà associative in modo che questi momenti che coniugano l'aspetto teatrale, l'aspetto dilettantistico, l'aspetto cristiano siano elementi essenziali per una comunità che ha bisogno di tutti.